Gentili telespettatori, buongiorno e bentornati al nostro consiglio di approfondimento sportivo del lunedì e lunedì 14 novembre. Partiamo e preghiamo la regia di farci vedere le schermate e tutto quello che è successo nei campionati di serie D, eccellenze e promozioni molisana. Diciamo che il campionato di eccellenze è stato riaperto grazie alla vittoria dell'Aurora Alto Casertano sul campo basso 19-19 e al contestuale pareggio tra Isernia e Venafro, quindi il campo basso è ancora in testa della classifica, ma Aurora Alto Casertano e Isernia seguono molto da vicino. Partiamo con la serie D, girone F, i risultati delle gare dell'ultima domenica, è successo questo, Ama Juventus Fano, Vasto Girardi 1-1, Avezzano Calcio e Football Club Matese 1-2, Calcio Termoli Vigo Senigalli a 0-0, Pineto Calcio Team Nuova Florida 3-0, Porto d'Asqua di Sinti Albalonga 1-1, Roma City Football Club Ponte Giorgio Calcio 0-1, Tolentino Notaresco 0-1, Trastevere Calcio Chieti 2-1, Vastese Calcio San Benedettese 1-0. Diamo anche un'occhiata, come ti consegno, alla classifica del campionato di serie D, girone F, Pineto Calcio in testa 24, Trastevere Calcio 23, Vigo Senigalli a 20, Ama Juventus Fano 19, Avezzano 18, Football Club Matese 17, Vasto Girardi 16, Sinti Albalonga 16, Porto d'Ascoli 15, Team Nuova Florida 15, Chieti 14, Vastese Calcio 13, San Benedettese e Montegiorgio Calcio 12, Notaresco 10, Tolentino 8, Calcio Termoli 1927, chiude la classifica, Roma City Football Club a 6 punti. Il campionato regionale di eccellenza Molisano, le gare di sabato 12 novembre, Venafro, città di Isernia, San Leucio, derby della provincia di Isernia 1-1, Campo di Pietra, Castelli Sangro, Ceppe 1953, 0-4, le gare di domenica, Aurora Alto Casertano, Campo Basso 19-19, 3-0, Aurora Ruri, Olimpia Agnonese 0-2, Calcio Virtus, Gioiese, Campo Marino 3-5, Pietra Monte Corvino, Sesto Campano Calcio 1-2, Real Guglionesi, Boiano 3-1, Turris, Polisportiva e Gambatesa 8-0. La classifica del campionato di eccellenza Molisano, guida il Campo Basso 19-19 a 27 punti, città di Isernia, San Leucio e Aurora Alto Casertano a 25, Real Guglionesi e Venafro a 21, Turris 20, Sesto Campano Calcio 17, Campo Marino 16, Pietra Monte Corvino 12, Calcio Virtus, Gioiese 11, Olimpia Agnonese e Boiano 10, Aurora Ruri 7, Castelli Sangro, Ceppe 5, Polisportiva e Gambatesa 3, Campo di Pietro meno 1. Infine i risultati del campionato di promozione Molisano, le gare di sabato 12 novembre, Isernia Fraterna, Polisportiva Fortore 0-5, Bois Vairano Termoli 0-1, Baranello Ripalimosani 1-3, Donchesegnone Criternina 1-0, Polisportiva M Juveness Altilasagnum 7-0, le gare di domenica, Attalico San Pietro in Valle, Spinete 2-2, Polis Petacciato Calcio Montenero 3-2, Trivento Roccaravindola 2-3. La classifica del campionato di promozione Molisano, Polisportiva Fortore 28, Attalico San Pietro in Valle 19, Spinete 19, Polisportiva M Juveness Termoli 2016 18, Roccaravindola Ripalimosani 17, Donchesegnone Criternina Trivento 14, Bois Farano 12, Aesernia Fraterna 11 punti, Baranello 9, Polis Petacciato 6, Calcio Montenero 5, Attilasagnum chiude la classifica a un punto. Gentili telespettatori, come sempre vi ringraziamo per averci seguito nell'approfondimento sportivo del lunedì qui su TV Imolese al canale 110 del Digitale Terrestre. Vi diamo appuntamento al prossimo venerdì per la quinta puntata di Sportivamente.